ciao sono vincenzo barba presidente della holding h2b e fondatore di prestito si finance spa a nome mio della direzione dei nostri exeguti e del nostro team di dipendenti vorrei darti il mio personale benvenuto nella nostra grande famiglia sappiamo che hai preso una decisione importante quando ti sei unito a noi una di quelle che richiedono impegno visione per fare la differenza e siamo impazienti nel vedere risultati che otterrai durante il tuo percorso entrando a far parte della holding h2b hai fatto il tuo primo passo con noi allora sai cosa viene dopo iniziare qualcosa di nuovo può sembrare sempre asfissiante ma uno dei grandi pregi del nostro gruppo è la semplicità di come lavoriamo abbiamo lavorato a fondo per costruire un'organizzazione che possa darti il massimo supporto e vantaggio di successo abbiamo stabilito le migliori pratiche che si allineano con i nostri valori il nostro carattere e l'integrità della nostra azienda tuo primo obiettivo è conoscere tutti gli strumenti e le opportunità che sono state realizzate per te infatti nelle prossime mail riceverai accesso al gestionale space now accesso all'area intranet presentazione della società creiamo valore italia inoltre ti forniremo gli accessi alla nostra esclusiva piattaforma first class con un calendario di eventi formativi di persona e virtuali in modo che tu possa ottenere il massimo supporto di cui hai bisogno ma soprattutto quando ne hai bisogno per realizzare una professione vincente noi saremo lì per te in ogni fase del tuo percorso ma non finisce qui grazie all'appartenenza al nostro ecosistema riceverai un email da parte delle nostre società rental si e assicura si dove ti invieranno il mandato di collaborazione e gli accessi ai propri gestionati ti incoraggio a rimanere concentrato sulle basi credi nella holding h2b che può realmente avvantaggiare la tua professione ma soprattutto credi in te stesso come lo so perché centinaia di consulenti hanno già raggiunto i loro obiettivi professionali e personali con la holding h2b grazie al loro duro lavoro e al loro impegno e sono fiducioso che la stessa cosa possa accadere a te ti auguro tutto il successo mentre inizi questo nuovo ed emozionante capitolo della tua vita e non vedo l'ora di congratularmi per quello che il futuro ti riserva benvenuto nella holding h2b